Oggi noi di Rete Veneta siamo tornati qui a Vicenza in largo Goethe dove accanto a questo monumento c'erano i bidoni della spazzatura e anche le moto parcheggiate in modo selvaggio tanto che noi avevamo lanciato una campagna per il rispetto di questa area monumentale e i risultati in chiusura di quest'anno si vedono perché i bidoni sono stati spostati e le moto qui non possono più parcheggiare Per questo ringraziamo l'amministrazione di Vicenza che ha raccolto la proposta di Rete Veneta, Assessore questo luogo ha decisamente cambiato faccia Sì c'era la necessità di dare nuova dignità ad un posto che era utilizzato in maniera impropria per il parcheggio appunto dei motocicli e anche per i bidoni della spazzatura Oggi ridiamo dignità a quello che è il monumento dei bersaglieri sicuramente uno dei monumenti simbolo per la nostra città in un luogo simbolo vicino al teatro olimpico quindi siamo stati incisivi e ci fa piacere soprattutto che i cittadini rispettino anche questo divieto Bene ringraziamo l'assessore e adesso andiamo dai due assessori che per primi hanno affiancato Rete Veneta in questa battaglia per la dignità di Largo Goethe di questa area monumentale Lucio Zoppello e Claudio Cicero che immediatamente si sono attivati innanzitutto per togliere i bidoni della spazzatura Certo per quanto di mia competenza allora io appunto ho contattato AIEM Valore Ambiente perché appunto proponesse delle soluzioni alternative che sono poi quelle che sono state adottate abbiamo scelto questa che prevede la collocazione lungo il viale a fianco e liberando appunto questo spazio molto significativo E non solo i bidoni dell'immondizia ma anche le moto che qui venivano parcheggiate in modo selvaggio adesso c'è un divieto Sì c'è il divieto che sta a significare proprio il rispetto dell'area in tutti i sensi quindi non solo per la parte delle immondizie ma anche per la parte ciclabile E' pedonale che è un'area di assoluto rispetto come vedete ci sono le passaggi pedonali regolari e per i pedoni va bene Benissimo allora è soddisfatto? Beh certamente sì era sicuramente un obiettivo che c'eravamo posti e l'abbiamo realizzato e questo voglio dire nell'interesse appunto dei cittadini in particolar modo dei bersaglieri che meritavano questa attenzione E' soddisfatto Claudio Cicciolo? Assolutamente sì E allora pollice in su missione compiuta E allora pollice in su missione